Per valutare in modo appropriato il fenomeno della violenza durante e dopo la resistenza, bisogna certamente tener conto del contesto, che è stato quello di una guerra la più terribile, la più spietata, che sia stata combattuta in Europa, almeno nell'età contemporanea. Nel caso dell'Italia, della resistenza italiana, c'era un movente aggiuntivo per combattere la resistenza senza tregua, perché l'Italia fascista era stata complice e imitatrice della Germania nazista nella volontà e nei metodi di assoggettamento di altri popoli. Quindi c'era da parte degli italiani un dovere di riscatto in più. La violenza della resistenza si esprime essenzialmente in tre forme. C'è in primo luogo la violenza contro gli occupanti tedeschi, che si manifesta, che si esprime attraverso attacchi contro piccole postazioni, contro contingenti in movimento e anche contro militi più o meno isolati, soprattutto dietro i fronti, ma anche nelle retrovie più lontane, nelle città. Questo è certamente il tipo di resistenza verso la quale i tedeschi sono più assolutamente insofferenti e disposti a stroncarla con i metodi più dragoniani e crudeli. E questo si verifica soprattutto nelle zone del retrofronte con quelle rappresaglie, con quelle stragi, addirittura in certi casi che non sono rappresaglie, ma sono di carattere preventivo proprio per rendere impossibile questa azione alle loro spalle. Il secondo tipo di violenza della resistenza è quella invece che viene rivolta appunto nelle campagne, nelle montagne, ma anche nelle città attraverso le azioni dei GAP contro i rappresentanti del regime fascista repubblicano. Questo è proprio il cuore della cosiddetta guerra civile tra italiani fascisti e italiani antifascisti. Questa è una guerra che è assolutamente giustificata, non solo per la sua enorme valenza simbolica del antifascismo contro il fascismo simbolico-politica, ma anche come una parte importante della guerra di liberazione. Io credo che tra la violenza partigiana e la violenza fascista ci sia una differenza di fondo enorme, perché la violenza fascista è costitutiva della sua ideologia. Le finalità del regime fascista e tanto più del regime nazista sono quelle di imporsi attraverso la violenza più estrema su tutti i popoli raggiungibili in Europa. Per quanto riguarda la violenza partigiana è una violenza appunto di difesa e di riscatto, che poi all'interno di questi gruppi che aderiscono alla resistenza in modo volontario, in modo sparso, certe volte in modo transeunte, perché ci vanno, vanno in montagna, poi se ne vanno, poi forse ci ritornano, beh lì si può trovare di tutto. C'è poi una terza forma di violenza nel corso della resistenza che è quella che potremmo chiamare una violenza interpartigiana, cioè per un verso la violenza che si rivolge contro quei membri delle bande che deviano dai loro compiti, dai loro doveri, delle volte in modo grave, abbandonando un posto di sentinella, di sorveglianza, oppure lasciando scappare sempre per negligenza dei prigionieri, che poi possono trasformarsi appunto in delatori del luogo, della postazione dove la banda invece si rifugia, oppure per delle condotte che sono gravemente nocive per quanto riguarda i rapporti della banda con le popolazioni di civili, con rapine, furti, addirittura stupri. C'è poi invece un altro tipo di violenza interpartigiana, che questa è certamente deprecabile, che è quella che si verifica a volte tra bande partigiane che si contendono per motivi politici il controllo del territorio, oppure all'interno della stessa banda per il controllo del potere da parte di quel personaggio. La violenza della resistenza corrisponde in larga misura, diciamo così, ad un stato di necessità, corrisponde al bisogno di avere uno strumento per raggiungere una finalità che è in primo luogo di difesa dal nazifascismo. Ad esempio è diversa da quella che si registra, per esempio, nel campo repubblicano, durante la guerra civile spagnola, che pure ha con la resistenza in Italia e in Europa il comune denominatore dell'antifascismo. Perché però in Spagna, dalla parte repubblicana, si sviluppa anche una rivoluzione, cosa che in Italia non c'è affatto.